Grazie a tutti. 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 carlo il paolo è donato che in realtà è lo specialista perché non c'è due in barriera perché donato un buon destro va in porta donato aloisio con le mani mette fuori i pilliteri il pallo per ricco alla fine c'è il flaco schemi ce l'ha portati rimparlo che stava favorendo pilliteri aloisio era scena fuori sotto pilliteri molta confusione in campagna sono due squadre che comunque se le stanno dando finora ma lo sapevamo che la partita sarebbe stata molto equilibrata due squadre simili nel gioco simili nel modo di attaccare sblandia poi rimane sotto lo prolunga il ci chiede c'era che è stato suddonato non c'è fallo gioca 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 non c'è fallo non c'è fallo su tutto ma c'è gioco la prima attrazione c'è la carica infatti c'era il fiore scusa è saltato molto fino alto ha bloccato questo pallone scarica la squadra maiciri alla fine pallone restituito al raio pronti ad entrare barone ferlicca e anche paolo ferrara per l'aria piccione palla larga per schimicci che va di punto in mezzo all'interessante all'inizio di cene che non arriva adesso entra ferlicchia un po in ombra alla prima partita con tribetis la c'è il posto a cera spalini verticale ma sblandi non è un velocista voleva addosso questa panna allora è troppo lunga impossibile la prendere rimesso al raio in giallo attacco 0 a 0 passati 7 minuti il barone mette fuori giammanco lancio lungo a cercare barone ricco con la spalla addirittura poi la manda non è cercato sblandi ma già manco mesi di questo pallone aggredito a due riesce a tornare dietro da ricco vai a calma me giri aloisio girapalla il rayo cercando spazi che al momento non è a sblandi controlla mette ancora giù di petto schimicci lo aggredisce lo scarico su cari me giri ben due locoschimicci da due grandi centri in pc non c'è falo si gioca andiamo ferlicchia scivolata di sbandi ferlicchia resiste contro flavio bianco prende fallo oh palino ci lamentiamo non mi chiamate non fate gg attaccati là sennò non ok o ti attacchi o ti sede ci lamentiamo non ci lamentiamo giochiamo occhio occhio giù punizione per la in società con ferlicchia che vuole calciare troppo debole e troppo alto molta confusione in campo le squadre che cercano troppo un po' più conosciuto un STM-PG un STM-PG un STM-PG più Mejiri centrale per sblandi e continua a fare la punta attacco per Mejiri poi bianco non calcia fa la finta Monasteri in copertura Barona allontana ancora tanta confusione prova a calmarla sblandi che prova già manco di testa rimessa meglio raga meglio attacca il raio con le mani in aria c'è Care Bianco che controlla però spostare poi si asce il pallone in auto signore c'è il cambio signore qua il barone dentro Ferrara vai 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 stiamo giocando schimicci Gabriele Barone controlla ottimo cambio di lato arriva Polino Ferrara che fresco ma non riesce ad arrivare meglio bellissima palla ottimo peccato veramente questa è un'ottima azione Friolo decimo del primo tempo 0 a 0 in questo derby d'amicizia il derby la piazzetta il rai il rai il rai ferlicchia alza per barone di petto poi rimessa adesso è la Real Sociedad che prende med pallone tesi in mezzo schimicci tocca prima Ricco rimessa dal fondo rimessa dal fondo non calcio tanto occhio occhio siamo schiacciati va Donato rinvio lungo interessante alle spalle di Ferrara mani è chiuso ciao ragazzi dovete aiutare col centrocampo ragazzi Monasteri ma fatene scema le parole è tuo valla tua valla tua valla tua valla tua valla tua valla tua no no da Calli bello ma Calli valla sicilia a sette Filippo va bisogno un po' basso Monasteri con le mani già manco apre su Ferrara scucchiata palintestante ma arriva Monasteri con un pizzico di ritardo ma grande palla di Ferrara non ne abbiamo non ne abbiamo c'è un po' bordello c'è un po' Megiri frena su Ferlicchia e ricomincia da Ricco ancora Ricco giocherino su Priolo impressioni timida di Ferlicchia Priolo prende campo largo Aloisi ancora Priolo Aloisi Sblandi col mancino di prima bravo Jack calma e Sblandi il nuovo più pericoloso del Raio ottimo qui la partita di Sblandi molto pericoloso e sta sostituendo di fatta e adesso Bianco gioca alle spalle di giuro Sblandi Monasteri controlla così così poi tu unnel su Fabio Bianco Ferrara controlla deviazione di Aloisio con la partita di Apriolo ma la parola è già uscita si vede che comunque il Raio sta soffrendo un po' la presenza l'assenza di di fatto un pilastro con il Schimetti soprattutto il compito sarebbe una partita ancora più Schimicci e Giudecarini Ferricchia Priolo vola in anticipo la palla è ancora in campo ma Ferrara preferisce farlo uscire accontentarsi della rimessa da Trani Ferrari è Tantinari Priolo vola ancora enticello su Monasteri poi Sblandi a Giussi Pone Bianco non riesce ad arrivare l'impallo rimesso al fondo credo si 13 e 40 ma quanto siamo? eh Raulio quanto siamo? ti hai uscito a 7 13 13 alla prossima alla prossima scicorriti non troppo 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 non zoom ma ce l'avevo così? mi è creduto qua bravo 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 già manco lungo Perlicchia non può arrivare a lui un po' di campo anche buona gamba per andare salta Schimicci allarga bene su Meciri che fa il doppio passo proprio nel fondo ottima copertura di Polo Ferro ancora Schimicci in mezzo a due salta il primo salta il secondo è partito Schimicci poi Perlicchia si addormenta si risveglia ancora Perricco per il Flavio Bianco che è a campo occhio al desto di Flavio Bianco e manda largo il pallone è troppo incrociare non bisogna dagli campo troppa forza poca precisione e spuzzi un punto per entrambe il rialzo di Dard che ha pareggiato la prima contro il Betis ha fatto una volta da 2 a 0 in un doppio vantaggio sorprendente occhio a Schimicci che apre su Barone e scivato piccione Barone arriva sul pallone e prova a rimetterlo in aria ha salvato Ricco Raglio che ha pareggiato come abbiamo detto Pocanzi 1 a 1 contro il Siviglia il Siviglia ed è un pareggio si può dire oro ma fa capire come il Raglio al completo possa dare testa a tutte Ferrara con le mani in aria c'era di testa non riesce a indirizzare poi Bianco contro Monasteri resiste Flavio Bianco che può partire di Slalom contro Schimicci nascono i palloni numero 11 ancora Bianco può partire si in appoggio c'è il Mecidi servito Mecidi si stacca alza la testa ma la stagione dice sblandi il Barone fallo il Barone sblandi posizione cercare la porta cercare la porta in barriera monasteri adesso si aggiunge anche barone è una partita bianco ma adesso forse si può battere occhio anche a limita ricco va bianco forse sulla barriera e fa un tatuaggio a cera priolo di testa bianco chiuso bene a monasferico rimessa trale per il raio in aria sempre sblandi a far bracciate sportellate con ferrara medicina pulito a ruistici che di cera contro priolo e in vantaggio di pensare il raio poi hai visto titta equilibratissima due squadre che si ritrovano due ottime difese che veramente in cui non stanno concedendo nulla ferrara giammarco a monasteri lungolina grande palla per cera ha fatto il movimento giusto col corpo senza però riuscire a controllare ragazzi attaccatevi monasteri che ha una spinta poi giammante riuscire a sopolare lo affidacera che si gira col controllo priolo bravissimo per neanche fallo difesa di priolo bravo bravo bianco bel controllo monasteri ha controllato c'era sblandi anti riccio anti piccione con un intervento sul pallone però ha fatto male anche a cera sicuramente non è entrato in maniera impeccabile piccione e allora fischiamo tutto ragazzi mi state ti fa pure tutti io non so chi è ho sentito tira tu tira tira no 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 ne prendono qualsiasi e va fuori non mi permettete più io non parlo con voi in questo momento ma richiamerà anche i dirigenti in banchina i dirigenti che poi sgiocano sono giocatori i dirigenti di cuo vabbè i giocatori squalificati che vogliono essere squalificati di nuovo in questo caso no ma non è il dirigente Giovan fai i gol Giovan ma non è il dirigente un po' tutti oggi doveva lavorare poi occhio a cera che è un ottimo mancino ma siamo distanti conclusione di cera altissima donato aspetta un'unica soluzione buon asteri ancora vengono bene bianco quella che non è scuta è giallo perché ha toccato poi Giovan che la puoi accanto a morire che ride anche che fa potrò trovata trovata è troione un minuto e c'è il raio 5 alla fine un po' meglio questo siamo molto liberati Priolo lungo per sblandi calmo calmo buono sbaro buono sbaro percorso della solidarietà è stato a 5 con i Villa Sofia dove il portiere ha donato hanno perso un portiere importante a Pil, a Pil, a Pil vieni tu Piliteri forse si conoscono pure troppo le squadre perché mi sto andando regando Barone Bianco più debba attentissimo fin qui Bianco si è riuscito veramente a farci stare tutti i palloni Ferrara Ruisi sbaglio il controllo Raio che rimane avanti Piccione con le mani Ferra di testa rinnessa dall'altra parte Ricco con le mani Bianco scarica sul Ricco sinistro addirittura in palo del rato quando vuoi piccione dall'altra parte con le mani viettamentinario non c'è nessuno ci crede Bianco Monasteria ancora puntuale lo conosce troppo bene pallone in aria vola sblandi la palla scorre spalla sbarra Ferrara e sblandi quando ci crede rimesso al fondo di casa è giallo scendi Ricchi scendi Ricchi Giovi Fili Teri Lanciunga Ceccarecci la palla che c'è infaltrato la prossima cambio dopo 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 vincere l'uomo li ha incontro capitano Monasteri con le mani Aloisio bianco liscia il pallone poi Ruisi sbaglia e si inserisce Piccione in mezzo a due non c'è fallo Piriteri Ferrara col velo me c'è arriva sul pallone bella finita sul Ferrara bravo Fischi a Rao finisce il primo tempo facciamo il ritardo qui sul cronometro torniamo tra poco in questo tempo 0-0 nulla di grosso in occasione torniamo tra poco grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti la rialzionata credo 0-0 Andri partita un po' meglio 7 nulla di che come o casuali ma perché le spiaglie sono molte chiese si conoscono conoscono i punti di forza e i punti deboli il mio pensiero è quello che comunque il radio sta soffrendo l'assenza dei suoi attaccanti diciamo non è riuscito a concretizzare sotto porta e questo un po' ha limitato le sue azioni questa stile non ha magliettina sotto mia si vabbè ho capito ma è bellissima è una cosina dove sticare Fede batte subito qui ha calciato ferlicchia aloisio però Ferrara che legge bene qui su ce l'è per tutti dietro dietro salta a sping era leggermente fuori dei pali per fortuna palla non becca sali sali ruisi numero solo isio poi apre su ferlicchia qui d'apriolo ferlicchia prova il destro murato si affida la qualità di ferlicchia la rialzo si dà controllo sbagliato per l'appoggio ma tu stai vedendo dove sei ti metti là pallon in aria allontanare ricco rimpallo alla fine rimessa trale per il rai priolo aloisio si apre meci aloisio va in verticale a sblandi che mette giù di petto adesso forse si entra già un po' più di libertà perché devo farsi tutta la partita almeno tutto il primo tempo bianco prova dietro a calciare fuori erano troppo gli stani comunque questi tiri possono servire perché il rai ha difficoltà di entrare nell'area di rigore avversaria magari la possono sbloccare così ruisi ferlicchia contro ricco così pone ferlicchia prende fallo schimici ruisi ora per ferlicchia si incontra anche ok pallone qua ruisi in copertura aloisio non arriva poi ferlicchia aggiusta questo pallone ruisi con l'esterno grande palla per la corsa di ferrara quanti hanno avuto in campo passa su priolo ma priolo è un osso duro è ancora una volta non si da a saltare e guadagna pure calci e buizia priolo momentaneamente perfetto no io sto male io sì io sto male io sto male io sono un approccio io sono influenzato è ieri ieri umilità mamma mia covid priolo allarga su pietro ricco bianco pronto a sgassare sulla testa prima cerca lo scambio con me poi bravo ruisi in disimpegno valenza ferrara allunga sto pallone schimici può partire alla caca può partire senza su me cito pallone invocato ricco sta facendo un'ottima partita prendendo tutti i spazi guarda schimici ruisi apre bene ma c'è fallo di sblandi che viene anche munito in ritardo sblandi altro martemino giallo cari 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 tanto pure se parli non cambia per il mio corso un po' troppo esagerato questo gianno che non voleva assolutamente far del mano giochiamo vincenzo stai zitto bravo moinsza stai zött grazie ho agito il problema è ovviamente importante entra in mania di voce giociamo andi allargati andi allargati bravo 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 Giammanco, Schimicci scarica, su Piliteri, profondità per Giammanco, adesso è più alto, non può arrivare a questo gol, è bello, noi marciamolo, calma, gira, calma, ricco, imposta il raio, all'inietro perdonato, Albi, Albi, ancora Priolo, male interessante per Aloisio che non è riuscito a ruotarsi controllo di schiena praticamente, 4 e mezzo sul cronometro ancora 0-0, tra il raio Vallecano e il razzo di Dazio, Ferlicchia però a prelungare per Schimicci copertura di Priolo, perfetto però Priolo, perfetto, non svedo nulla, entrambe le scuole stanno dipendendo veramente molto bene, Schimicci, colba di centro-basso poi spazio di Priolo Ruizio Valenza, resta di sbandi, Valenza in difficoltà, regala rimessa al raio che vuole battere rapidamente, Bianco controlla male, Ferlicchia, rinpa lo Schimicci, ha toccato Rao, quindi gioco si ferma Scusa che hanno già un punto Due Un punto Lo dico, con quella prima, due Due ore Ma sei stupido Ti ho detto hanno un punto In line due, sono certo Però lo dico Con quella di prima Ho detto, scuola che hanno già un punto Lui funziona il contrario, questo punto è preso e quello di prima è levato Kimicci No, perché ha dovuto fare il palo su numero 8 Mia ragione è a nono Più questo, due Uno solo buono Allora ci sono messi matti Ma io non c'è sempre così sono Non c'è che fare Ma questo è il migliore Ma perché stai a questo mondo Come sei l'arbitro Lui l'arbitro Lui l'arbitro Questo È una scivolata di 10 ore per io Ma quello stile Non c'è l'arbitro 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 Hai capito? Sul palloneo Davide Schimici Direttamente in porta Sul fondo In becca alla borsa Numero 8 Grande palla per Sblandi Controllo Donato con i pugni C'era la porta e vuota Rui si prova Alto Lui si male Arriva a bianco Che c'è capo Bianco Fuori di un niente Ryan passo all'1-0 Basta un minimo Di centimetri A bianco E può fare questo Vicino all'1-0 Qui l'indicisione di Ruiz Siamo in tre Su questo pallone E la porta a schizzarsi al bianco C'era Controlla bene di petto Filtra in mezzo a due Poi Schimici Idea giusta Ma la palla troppo rapida Il suo pensiero è più rapido Pressione degli altri Mecili Priolo In appoggio a Loisio Priolo prende campo Mecili occhio la pressione Se la cala Tutti i mici Ci serve anche il giallo Secondo me Mecili va a protestare A me che il giallo ci starebbe A me questo è giallo Fallo non cattivo Però Assolutamente sì Anche perché Finora l'arbitro Ha munito Con questo genere Di falli Per il metro di giudice E per il fallo Piscato e Bocanzi Vabbè Conizione nel Rai Vorrei poter dire Che non calcia Ma calcia Calcia bianco Deveazione Ha lottato Ferrari Ancora il raio Priolo Prova Valenza Facile Schimicci Ha un po' di campo Avanza ancora il flaco Prende campo Poi c'era Palo Real ha un passo Al vantaggio Adesso l'occasione Arrivano Quella di bianco E quella di cera La realizzata È uscita Con i denti È andata vicino al vantaggio Già manco Alza il cross Murato Arriva occasione Anche bianco blu Squadre che si stanno Allungando In questa metà Del secondo tempo È incrociato bene C'era Scarico Barone Sinistro Fuori Altra occasione Per la rialza Siedadde Raga Centrocampo Non c'è nessuno Scendiamo Mi fa di nervosire Al rinvio donato Al rinvio donato Aloizio non benissimo Sto pallone Che è buono Allora Barone Ballone uscito Fisca con una piazza Che è una piazza La piazza Fisca con una piazza Fisca con una piazza La piazza La piazza Larga Su Aloisio Ha toccato L'arretto Vai 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 È lui che ti butta fuori No l'arbitro Gioca la rialza Ma si è abbattuto Nella secondezza Si è abbattuto Palla in movimento Ci ha manco Vuole addirittura calciare Donato con i pugni Poi prigola lontana Qua era Meci Di mezzo a due Sempre al grande Lo Stimicci Aloisio Stimicci allunga la punta Poicena di tacco Si è fatto male L'arbitro fallo Non può una partita Anche complicata Arbitro Per la confusione che c'è Complicatissimo Priolo Con l'esterno per Meci Non è spesso per quello Rimessa con le mani per Priolo A cercare Karim Fallo in attacco Giallo per me Giallo per me Per protesta Però è cartellino facile Molto nervoso Centrappista al Raio La protesta non era Chissà che Il fatto è che negli ultimi Cinque minuti C'è stata veramente Molta confusione In mezzo al campo Molti falli Quanto manca Ancora 13 C'era bel controllo Dentro per il barone Poi interessante Barone Un po' manca Sì 13 Ancora C'era Sul buco di Pietro Ricco C'era contro tutto il Raio Ricco da dire Oh Questo è falla piena Questo no Questo no Questo non è per niente Questo no Questo no Questo no Questo no Questo no Palla piena Questo no Perché c'è una velocità fuori Punizione Eschimiccia Un'ottima possibilità Su questo C'è Lo stiamo Viando Regalato Regalato Assolutamente Sì Qui Veramente Anche l'arbitro A fatto confusione E ha concesso Questo calcio Di punizione Che occhio Generalmente Non sapete Una confusione Tale in campo Schimiccia Giro Barriera Cicchede bianco Giotto di Monasteri Schimicci Non sbagli C'impegna E poi con un tunnel Passapure Che batte rapidamente Piliteri Allunga Poi Riavanza lui Bianco Può calciare Da casa sua Deviazione Calcio l'angolo del Raio Tornata a care La squadra fatta Che adesso Fla l'alleatore In panchina Piccione corto Bianco Prova Cicca E prevalenza Non c'è nessuno Ci ha chieduto abbastanza Qui Magico 10 alla fine 0-0 Piliteri Cross Buss per c'era Troppo lungo Scalcatonato Malapaner Priolo Aloisio Barone Fa la cash Fa la cash State attenti Perché la prossima Non c'è che non mangiare La casacca La casacca La casacca Ora apriamo Papa Oh Giano Sì Giano Non puoi entrare Fai il suo nome E' il mio cugino E' una lecchia Ma chi puoi rire E' giustificazione E' ferlicchia L'ho capito Spirlo totale Bianco E questo è il bello Di questa parte L'amicizia Bianco Va lontanissimo Tutto sudato Ma sudato perché Che c'è un 2 gradi E' sudore freddo Io sono venuto sudato Dall'ora Ma se lo sudano è il doppio Perfetto Priolo Aloisio Centrale per sblandi Con controllo In controllo Giammona 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 Stimicci Giammona Ferlicchia Contro sblandi Nasconde il pallone Poi torna Per forza Giammona Monasterio Palla a metà strada Monasterio la giusta Poi Ferlicchia Zola tiro Si accentra Monasteri Fallo su Ferlicchia Stavolta il fallo c'è Punizione Assolutamente sì Il fallo c'è Però poteva dare vantaggio Però Un'occasione Veramovit Grande Questa La rialza Siedadio Siamo a pochi passi Dalla porta Monasterio infatti Protesta perché Vuole il vantaggio Comunque Questa è la mattonella Migliore fino adesso E sul pallone C'è Schimici C'è Ferlicchia Ma c'è anche Giammona Adesso Che si è lontana Vuole batterlo Ferlicchia Che si è procurato Questo calcio in menzione Ci vuole una giocata Di qualità Un episodio di questi Per sbloccare una partita Finora Bloccatissimo 3 in barriera Siamo molto centri Può calciare ovunque Ferlicchia Va a Ferlicchia Punizione magica Che finisce fuori Di un niente Cacciato benissimo Cacciato molto bene Ferlicchia È rimasto immobbietonato Valla a cuore di Veramente nulla Schimici Di petto a metà Meci ripandano Contro Schimici Che non demorde E lo chiude molto bene Eccessivo Pallinaria Sblandi Ha chiuso Monasteria Arriva Priolo Che controlla Passa sul Barone Rimpallo Ulti a toccare Priolo Ha visto bene il Rao Rimesso a fondo Bloccatissimo 8 alla fine Già manco lungo Barone Forse con un braccio Poi più Lontanericco Barone Dai ci ripoteggio bene Le mani signor 3 Ma come Non ti dice no Sì Schimici Sbaglio L'appoggio Già manco Non riesce a giustare Perché la palla è uscita In out A sinistra Rimesso a Raio Tanta stanchezza Anche Va bene che si conosca Ma fino a non fare gol Che sono amici Priolo Sblandi contro La male Per lontanericco Perlicchia Buca il petto Ma controlla il pallone Ruisi Riparte La relazione di dad A destra Contro Pino 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 Per Raio Valecano A un passo All'1-0 La relazione di dad Con Schimici Grande azione Questa a sinistra A destra E poi si è chiuso A sinistra Adesso speriamo Che la partita diventi bella Meci libera Loisio Prova la conclusione Schimici Sul pallone Si è fatto male Loisio Va in contrappio Schimici Schimici Dentro per Ferlicchia Che non arriva Si è fatto male Loisio Alla caviglia Se Schimici segna Vado sul fare Col cuore Bravo 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 Dove è il ghiaccio? Dove è il ghiaccio? Dove è il ghiaccio? È ballo Scrivete Bravo Dove è il ghiaccio? Guarda Ah, ti è alzato Non ho Aspetta Albi Albi Non ho bisogno Chi è stato organizzato Il mio raso? Vado 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 Si è fatto male Vado Dai Vado 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 Com'è Dio, non mi ha fatto sto viglio. Sei da giocare. Ho avuto l'occasione importantissima, Schimicci che poi ho imbucato per Ferlì. Primo, Aloysio. Ricomincia, Schimicci ha rubato il pallone, ma sta lunga troppo. Carlo, Carlo, Carlo. Punizione in raio, va donato. Carlo. Qua sono? No, bianco. Io farei tirato. Chiamatelo al B. No, va bianco, dopo una breve discussione. Quando respiri fa male il petto. È proprio bene. Perfetto. Ho un formico lì, ho un braccio sinistro. Solo uno in barriera. Bianco! Un razzo alto. Schimicci di prima. Ricco, poi bianco indietro l'ha donato. La pressione di Ferlicchia, donato non rischia. Ancora bianco. Non tirare! Vuole ancora calciare. Adesso vuole trovarsi qua solo. Vuole fare l'eroe Fabio Bianco. Lo stato per anni con questa maglia. Qui sbaglia, Ricco che è molto stanco. Sbaglia anche Schimicci. Sbagliano tutti. Priolo no. Passa bene. La palla non esce. E Schimicci prende il pallone. Ma il 5-0 deve essere Schimicci. Con il 5-0. È onnipresente Schimicci. Cioè fa paura. Fa altro partito. Fa paura. Priolo sul secondo palo. Loisio! Completamente dimenticato dalla difesa bianco-blu. Arriva sul secondo palo. e mette dentro il gol dell'1-0. Come la spada e la roccia. Buca il muro 1-0. Andiamo dai. E il Raio va in vantaggio. A 4 minuti all'albio. Mancava questo. Il colpo vincente. Tu l'hai rimesso lunga di Priolo. È arrivata Luizio. Piattone e palo dentro. L'ho preso. Ma sta per amante Albi. Buca con. Sta per albio. Buca con. Buca con. Buca con. Adesso si soffre. Perché la reale si è. Vediamo. Mettio, mettio, mettio. Mettio, mettio sul tante. Sblandi, buoni. Ecco, pazienza. Reazionate con l'ultime per evitare la prima sconfitta di campionato. Ferrara, calcio! Traversa! Si è uscito un destro senza senso. Forse l'appunto è toccato nato. Poi c'era. Insista la reale. Si ferma c'è la destra. Deviato. No. Alto. Non c'è di reazione. Finale di partita pazzesco. Mancano solo tre minuti. Ma perché hanno aspettato 20 minuti per giocare? Così. Veramente. Se le stanno dando. E come dissi in Betis, rialzo si è dad. Non puntate sbagliare domani perché andrò per le lunghe come ogni nuve di sé. Non scherzo, stiamo quasi al termine. 1-0 il raio. Al momento decide Alberto Aloisi. Toccate la red. Pallone lungo per me, giri contatto. Manata punizione. Tuo qua, tuo qua. Fravio, Fra, Fravio. triolo antica diersi. Si la contro. Priolo contatta il versino e col go. Però basta. saliva la gi. Punizione. Andrà Bianco. Priolo ha deciso di lasciarglielo. Almena di entirely tira tu. e con la pijama questa è un'ottima mattonella ha morito ha morito per la proposta no, mi chiede la tua compagni quattro ha morito ma che pollo che sta succedendo che pollo mi chiede la tua compagni 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 continua il professore Ferrara adesso forse è mai tutto carico adesso arriva anche il potente di Fabio comunque vanno alle ciance punizione per Bianco due in barriera tre minuti mancavano in treni manca uno ma si recupera perché siamo persi due minuti non si capisce perché per questa punizione dove picca sarà le proteste Schimicci e Ferrari in barriera non lo prendi perché c'era Bianco altro missio sulla schiena di Schimicci adesso la società deve affrettare i tempi per recuperare palla e andare in porta per poi appareggiarla altrimenti i primi tre punti è Raio in liga mette fuori Gianmanco Ruiz si prova ad allungare per Cera che ci crede Priolo con l'ennesimo intervento della sua partita due minuti c'è Rao ecco i due che si sono persi si recuperano adesso due minuti che si sono appena persi e qui ha sbagliato Bonasteri Bianco poteva chiuderla ma la passa a Valenza Schimicci spinge sempre lui col cuore per pareggiare punta Sblandi resiste Schimicci fallo e punizione sul pallone Schimicci che non penso stavolta andrà in porta ma cercherà con la viazione perché sono tutti dentro Schimicci infatti calcia forte prende in pieno Sblandi che era forse pure troppo vicino scorrono i secondi il cronometro sta per urlare basta ma non l'ha ancora ruota la sua data Schimicci contro Bianco contro due circun tunnel lo chiude Meciri Rao con la rimessa sempre Schimicci col pallone di nuovo Barriera che si compone e di nuovo tutti in aria per l'ultimo forcing della Real Società per provare a evitare la prima sconfitta in Liga dopo il punto contro i Betis tutti su Giammanco Ferrara Monastei Ruisi e c'è di aria Schimicci dentro allontana Priolo ci mette la testa ancora una volta Ruisi con la rimessa lunga diretti di NAR cercaremo una Steri Giammanco Prolunga Donato lascia sfilare c'è ancora qualche secondo a giocare ma siamo agli sgoccioli il Raio è vicinissimo all'impresa e alla prima vittoria in Liga senza rifatta senza Schimmenti Schimicci difende il centro ha fatto tutti i ruoli quest'oggi Ricco con la edificia a controllare il rete lo ha rimesso all'ultima forse della partita Ferrara andrà con la rimessa lunga la vuole Schimicci per impostare la riceve la controlla prestato da Sblandi Schimicci deve inventare vediamo cosa si inventa Palonguia per Ferrara che va al cross sul secondo palo non c'è nessuno Fischetti in bocca tipice fischio il Raio vince il derby della piazzetta battuto 1-0 la Real Sociedad grazie al gol a tre dalla fine del numero tre Aloisio primi tre punti senza rifatta senza Schimmenti per il Raio Vallecano che è stata a quattro punti in classifica buonanotte e ci vediamo da un'unica prossima grazie a tutti